Il primo pallone, Oricke prima di questa partita ha detto pressione, ma no, non abbiamo pressione addosso, la pressione può spaccare i tubi o può costruire i diamanti, quindi dipende semplicemente dall'uso che fai della pressione, la filosofia di Big Shot Rob, il tiro soprattutto di Big Shot Rob, che normalmente è un tiratore di liberi non sempre affidabile, ovviamente in questa partita 3 su 4, doppia cifra, 10. E lo cavalcantamente tanto che si siede Duncan per Mohamed, negare le ricezioni di Manu Ginobili, andate a vedere questo tiro, questo è gara 7 eh signori, quarto quarto. D'altronde la pressione rompe i tubi, noi non rompiamo i tubi, non sappiamo cos'è la pressione. Come dici tu Flavio? Come dice lui! A me non verrebbero in mente.